ORA! E' benvenuto la nuova puntata di Stati! Steffi! Dai, facevo il playback! ORA! E' benvenuto la nuova puntata di Stati! No, sigla! Non si capito, no? Si, che bello! Tutto organizzato... Ad arte! Questa puntata della Tokyo Treat di febbraio-marzo Si, esatto! E questa volta assaggiamo... Foto copertina! Ma, perchè? Foto copertina prima di far vedere cosa assaggiamo! Perché tanto non si capisce! Ma si! Ah, vabbè! Assaggiamo delle... Non patatine! Come si possono definire? Gallette! Si, gallettine! Dei cazzilli tondi, tipo patatine! Al gusto, spinaci, pomodoro e cipolla! Che vuoi? Le fai, non è che... Ma te la mani! Poi assaggeremo! Queste patatine al barbecue! Che io prima ho detto... Molto bello! Io prima ho detto, a che cazzo sono? La forma di cazzillo! E lei ha detto, magari! Cari! Ve lo giuro! Ma sarebbero più carine! Scusa! Certo! Ora si intorta la torta! Scusa, ti sembra una bella forma? Sembra un vomitato dai cagni anemici! Cioè... Beh dai, su! E poi... Questo che in realtà abbiamo già assaggiato è il buffer a forma di pesciolino! Di pesciolino! Che era una bistecca così! Però, prima... Cioè quello che abbiamo già assaggiato era il cioccolato! Questo è alla fragola! Secondo me questo è buono! E' zitti! Allora, cosa facciamo? Vai! Patatine! Patatozze! Queste sono al barbecue nella confusione! C'era scritto? Aspetta! C'era... Barbecue! Sconces! Sono... Mmm... Per questo ha detto a cazzilli! Eh si! Che lei ha detto magari... Sprava... Oddio! Cos'è? Eh, sono i cazzilli che si sono tolti dal culo! Perché sono sporchi uguali! Ahahah! Adesso cos'è? Cos'è? Sembra una base di zenzero! Andiamo? Vai! Mmm! 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 Mio Dio! Mmm! Mmm! Ma fanno anche i curry! Mmm! È messo tra ketchup e curry! Salsa barbecue! No! Farproved! Voto 5! Mi ricorda molto l'erodeo! Mmm! Che buone! Veloce! Farproved! Voto 5! Cioè! Proviamo anche queste! Ah! Hanno una forma di fonzi! Si! Un po' più ovedi però! Poi non lo so! Adesso! Buono! Attacciamo queste! Ciao! Oh! Che curry! Ma che curry! Allora sono! Ma che belle! Ripetiamo! Cipolla, spinaci e pomodoro. Allora, ora che si capisce la differenza. Quella più scura. Quindi è pomodoro. Pomodoro. Non ci sento il pomodoro. Come no? No. Prendi un'altra. Ne prendo un'altra pomodoro. Non riesco a sentirci il pomodoro. La bocca è imbasata dalla spuba. Proviamo quelli verdi. Il gusto spinaci. Ma che spinaci? Non sono dei spinaci. Sono di sesamo bruciato. Sono di ostia. Sono di sesamo bruciato. È schifo. No. Oddio, mi ricordo l'odore di... Sai quando correte tutto il giorno? No, no, te ne ti preoccupare. Non io. Come fa a saperlo? Guarda tutto il giorno stai con il piede dentro la scarpa. Poi te lo togli e non usi di colpo il cazzino. Che viene su quell'odore tipo di caldo, tumido. Però voi vi starete chiedendo come me? Ma perché dopo un'intera giornata in cui hai i piedi nelle scarpe e poi ti hanno usi il cazzino? Perché? È masochista questa. Assaggiamo quelli alla cipolla, Dani. Sì, va? Eh, ma sta bene. Oh, che bui profumo. Non capisco. Questa. Buono. 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 Buonissimi. Allora, non capisco. Ma soprattutto ho i gusti. Ma soprattutto ho i gusti. Ma poi ho la poca birra. Eh... No, ho a provvedo e voto 5. Allora, ho a provvedo e voto 3. Perché non è che mi faccia impazzire. A me faccia molto. I gusti non è così. Quelli ha gli spinaci, sì. Non sono un granché. Così potente niente. maneggia bene il pesce rosa, dai! Che cosa c'è? Tratta come stumo! Di lunghezza intendo, eh! Eccolo! Se la canta è saldita! Pronto? Vai! Tu la capocchia stranamente, hai visto? Pronto! Il gelato! Il gelato con la panna! Il ciao! No, ma che ciao! Il fragolino! Il fragolino! Il fracolino! Voi dimostrare al fracolino? Bono! Guardate! E' tutto a pallini, quindi è tipo soffiato! E' buonissima se ciè la bocca! E' proprio la cioccolata della mina che la schiacci la varbo! Questa vacation la 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 della! E' buonissima! Ma si sono andati proprio bene! Mi devono provare il scrotto 5! si stanno migliorando questi della foto dritte cazzo rona dovremmo cominciare di nuovo a comprare per i cazzi i nostri tipo i dischetti pianco spino per fare cose schifose eh si perché qui ci stanno a me ma ci sei già tu che abbassi la media di cose schifose c'è alzi la media di cose schifose saluta 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 dai vai vai ancora vai vai quella cosa ce l'avevo fina a